Questa estate la Scuola Superiore Sant'Anna all'interno del programma delle Seasonal School attiverà per la prima volta una Seasonal School sul tema dell'Agent Based Economics e in particolare sul tema dell'Agent Based Economics in macroeconomia. Perché abbiamo attivato questa scuola estiva? Questa scuola estiva è un tentativo di fornire una serie di competenze, di metodologie e anche di modo di interpretare l'economia come un sistema complesso. A differenza di ciò che viene studiato nei corsi di introduzione all'economia che si fanno nei master tipici e standard della disciplina, l'approccio che abbiamo qui all'Istituto è un approccio che cerca di complementare attraverso un impianto di tipo interdisciplinare l'analisi di processi economici come ad esempio la diseguaglianza, il cambiamento climatico, il ruolo del cambiamento strutturale, il ruolo del cambiamento tecnico. Tutti questi sono fenomeni che per essere studiati necessitano di una lente informata dalla complessità. È per questo che abbiamo deciso di mettere in piedi quest'anno questa scuola estiva che sarà articolata sulla base di una serie di strutture di contenuti sia teorici che pratici. Quindi ci saranno una serie di lezioni frontali e poi anche la possibilità di sviluppare tecniche di apprendimento con dei software dedicati allo sviluppo e alla modellizzazione di modelli ad agente e anche analisi di dati in R e in pianto econometrico. Perché studiare i modelli eterogenei in macroeconomia? Perché molti fenomeni che caratterizzano la dinamica economica e la dinamica della nostra società negli ultimi anni richiedono questo approccio. Sono fenomeni come il cambiamento climatico, il cambiamento tecnologico, come le economie si trasformano, l'avvento dell'intelligenza artificiale e i possibili effetti di pandemia. L'Istituto di Economia è un centro mondiale nello studio di questi modelli ad agenti eterogenei e quindi la scuola che organizzeremo permetterà agli studenti che parteciperanno di conoscere questi modelli e iniziare ad effettuare un percorso di ricerca insieme al corpo docente della Scuola Superiore Sant'Anna nonché ad ospiti stranieri. La scuola prevederà anche momenti di condivisione, momenti di mentoring e momenti sociali in cui sarà possibile discutere con i professori e i docenti al di fuori dell'orario di lezione. La Seasonal School si tiene tra l'11 e il 15 luglio 2022, la deadline per l'iscrizione è fissata al 6 giugno. Si appartiene ad una dell'università convenzionata avrà diritto al 10% di sconto sulla fee di iscrizione e i tre migliori studenti riceveranno una premialità di 450 euro grazie alle fondazioni EY e il talento all'opera. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.